Ecco le estrazioni dell'8, Super Enalotto e 10 e l'8 di oggi giovedì 23 novembre 2017, concorso N, 140. Siamo alla decima estrazione del mese di novembre, la centoquarantesima estrazione dall'inizio dell'anno, di seguito le estrazioni dei numeri vincenti dell'8 e 10 e l'8, la combinazione vincente le quote e le vincite di Super Enalotto e Super Star di oggi giovedì 23 milioni e 112 mila 17. Concorso N, 140. Ultima estrazione dell'8 di oggi giovedì 23 milioni e 112 mila 17, concorso N, 140. I numeri vincenti dell'ultima estrazione dell'8 di oggi giovedì 23 novembre 2017 sono Nazionale 74, 26, 30, 21, 90, Bari, 71, 29, 47, 30, 63, Cagliari, 67, 80, 61, 6, 36, Firenze, 16, 55, 86, 54, 44, Genova, 71, 80, 17, 26, 20, Milano, 62, 30, 48, 89, 75, Napoli, 50, 23, 90, 40, 29, Palermo, 82, 9, 39, 83, 1, Roma, 1, 6, 2, 7, 4, 4, 2, 2, 4, Torino, 73, 8, 9, 5, 8, 7, 6, 6, Venezia, 6, 8, 6, 3, 6, 1, 7, 5, 0. Classifica numeri ritardatari all'8 Al primo posto della classifica dei numeri ritardatari all'8 troviamo ancora il 76 che manca dalla ruota di Cagliari da 183 estrazioni, seguito dal 42 che manca dalla ruota di Genova da 100 estrazioni. Troviamo infine il 3 su Firenze che non viene estratto da 87 tornate e il 20 che manca dalla ruota di Bari da 86 estrazioni. Estrazione serale del 10 e l'8 di oggi giovedì 23.112.017, concorso N, 140. I venti numeri del 10 e l'8 collegati all'estrazione serale dell'8 di oggi giovedì 23.112.017 sono 1, 9, 1, 6, 2, 3, 2, 9, 3, 0, 4, 7, 5, 0, 5, 5, 6, 1, 6, 2, 6, 3, 6, 7, 6, 8, 7, 1, 7, 3, 8, 0, 8, 2, 8, 6, 8, 9, numero oro 71, doppio oro 71 e 29. Fonte verifica dei numeri vincenti l'8 l'ottomatica ultima estrazione del superenalotto di oggi giovedì 23.012.017, concorso N, 140. La combinazione vincente dell'estrazione del superenalotto di oggi giovedì 23.011.017, concorso N, 140 e 4, 0, 5, 3, 3, 8, 5, 1, 6, 4, 1, 4, numero jolly 71, superstar 36. Quote vincite superenalotto punti 60 euro 0,00 punti 51 0,00 punti 50 euro 0,00 punti 4396 euro 559,24 punti 315.014 euro 37,08 punti 248.394 euro 6,49. Quote vincite superstar 6 stella 0,00 euro 0,001 stella 0,005 stella 0,004 stella 0,004 stella 2 euro 55924,003 stella 49,002 stella 1127,001 stella 773,002. 10,000 stella 18.817 euro 5,00 l'ultima vincita all'Alzuperenalotto L'ultima vincita all'Alzuperenalotto e del 1 agosto 2017, il fortunato vincitore si è aggiudicato 77,7 milioni di euro. La schedina vincente è stata giocata a Caorle, in provincia di Venezia, presso la tabaccheria Filippi in Viale Santa Margherita, con una puntata di appena 4,5 euro. Come riscuotere le vincite al Super Enalotto Le modalità per la riscossione dipendono dall'importo della vincita e dalla modalità di partecipazione al gioco, e se la stessa è stata realizzata giocando attraverso la rete fisica ovvero la rete a distanza. Per le giocate effettuate presso le ricevitorie, la riscossione del premio può avvenire solo con la presentazione della relativa ricevuta di partecipazione al gioco, in originale ed integra, previa la prevista verifica del tagliando. Il termine massimo per la presentazione delle ricevute vincenti è di 90 giorni solari dal giorno successivo alla pubblicazione del bollettino ufficiale generale dell'esito del concorso. Per le vincite di importo inferiore o uguale a 520,00 euro, si può riscuotere, presso una qualsiasi ricevitoria Sisal entro 60 giorni solari dal giorno successivo alla pubblicazione sul bollettino ufficiale generale, altrimenti, trascorsi 60 giorni, unicamente presso i punti di pagamento gestiti direttamente da Sisal Ufficio Premio Sisal di Via Tocvil 1-3-2-0-1-5-4 Milano Premio Sisal di Via Sacco e Vanzetti, 8-9-0-1-5-5 Roma e, comunque, non oltre il limite massimo di 90 giorni per vincite di importo complessivo fino a 5.200,00 euro ci si può recare, per un pagamento immediato della vincita, presso la ricevitoria nella quale si è effettuata la giocata vincente, entro 60 giorni solari dal giorno successivo alla pubblicazione sul bollettino ufficiale generale, altrimenti, trascorsi i 60 giorni, unicamente presso i punti di pagamento gestiti direttamente da Sisal Ufficio Premio Sisal di Via Tocvil 1-3-2-0-1-5-4 Milano e Ufficio Premio Sisal di Via Sacco e Vanzetti, 8-9-0-0-1-5-5 Roma e, comunque, non oltre il limite massimo di 90 giorni per vincite di importo compreso tra 5.200,00 e 52.000 euro compresa la vincita di importo pari a 52.000 euro, il vincitore può effettuare una richiesta di bonifico presso i punti pagamento premi di Sisal, entro 60 giorni solari dal giorno successivo alla pubblicazione sul bollettino ufficiale generale dell'esito del concorso, oppure, e obbligatoriamente trascorsi i 60 giorni, presso i punti di pagamento gestiti direttamente da Sisal Ufficio Premio Sisal di Via Tocvil 1-3-2-0-1-5-4 Milano e Ufficio Premio Sisal di Via Sacco e Vanzetti, 8-9-0-0-1-5-5 Roma, entro sempre il limite massimo di 90 giorni. Il bonifico sarà effettuato entro 30 giorni solari dalla data di consegna della ricevuta, previa la prevista verifica del tagliando di gioco per vincite di importo complessivo superiore a 52.000,00 euro. è necessario inoltrare, entro il termine di 90 giorni solari dal giorno successivo alla pubblicazione sul bollettino ufficiale generale dell'esito del concorso, la ricevuta di gioco vincente, in originale ed integra, all'Ufficio Premio Sisal di Via Tocvil 1-3-2-0-1-5-4 Milano all'Ufficio Premio Sisal di Via Sacco e Vanzetti, 8-9-0-0-1-5-5 Roma. Il pagamento della vincita sarà effettuato entro il termine di 30 giorni solari dalla data di consegna della ricevuta di partecipazione al gioco, per importi inferiori a 1.000.000 di euro, per importi superiori o pari a 1.000.000 di euro, entro 31 giorni dalla scadenza del termine previsto per la presentazione dei reclami di rivendicazione della vincita, a condizione che non sia stato presentato in merito alcun reclamo. Come riscuotere le vincite all'otto Per riscuotere le vincite del gioco dell'otto, in tutte le sue modalità l'otto al zero e l'otto immediato, a intervallo di tempo e collegato alle estrazioni dell'otto è indispensabile che lo scontrino sia integro ed in originale nessuna altra documentazione ammessa in sostituzione. Lo scontrino deve essere presentato per il pagamento appena di decadenza entro il sessantesimo giorno dalla data dell'estrazione a cui la giocata stessa si riferisce? Per riscuotere le vincite vi sono modalità di pagamento differenziate a seconda dell'entità per importi fino a 531,91 euro l'or di 500,00 euro netti. Il pagamento dovrà essere effettuato in contanti e il giocatore potrà richiedere l'importo della vincita presso una qualsiasi ricevitoria dell'otto per importi maggiori di 531,91 e fino a 1063,82 euro 29 euro l'or di 999,99 netti. Il pagamento dovrà essere richiesto esclusivamente presso la ricevitoria dove la giocata è stata effettuata. 11 pagamento potrà essere effettuato in contanti o su esplicita richiesta del giocatore. Tramite accredito bancario per importi maggiori di 1063,82 lordi e fino a 10500,00 euro l'or di, il pagamento dovrà essere richiesto tramite prenotazione a terminale presso qualsiasi ricevitoria dell'otto per importi superiori a 10500,00 euro l'or di. Lo scontrino vincente dovrà essere presentato dal giocatore presso un qualsiasi sportello della banca concessionaria banca intesa. Il giocatore può anche inviare e richiedere il pagamento dello scontrino vincente, entro il suddetto termine dei 60 giorni dalla data di estrazione. Alla GTE CHSPA ufficio riscossioni e pagamenti, sito in Roma, Viale del Campo Boario, 56d, 154, quale soggetto concessionario della gestione del gioco.